L'edizione flash di Cagliari Online e il nostro TG Web di Castelonline.it quest'oggi ci porta esattamente nella sede dell'ufficio postale di Viale Trieste. Ci hanno segnalato una situazione che è a dir poco dell'incredibile, a prescindere dagli spazi attivi esterni che di fatto stanno proprio accanto al marciapiede, ci hanno segnalato questa situazione, vestiti, scarpe, abiti, proprio di fatto all'esterno dell'ufficio postale di Viale Trieste. La situazione non cambia tra desolazione e degrado, possiamo anche mostrarvi quel che accade. Questo è sempre l'esterno, questo è un biglietto della vigilanza, perché praticamente qui durante la notte passa la ronda, le guardie giurate, ma naturalmente tutto quello che possiamo vedere tra escrementi, sporcizia, residui, anche di rapporti sessuali, sicuramente con prostitute, perché ci sono fazzoletti sporchi e preservativi, proseguiamo, ancora immondizia. Preservativi, un altro preservativo, altri preservativi qua dietro, segno che ovviamente qua durante la sera ci sono dei rapporti clandestini. Escrementi, qua adesso nei parcheggi esterni totalmente accessibili, possiamo vedere un mare di escrementi. Bustoni di mondizia, ancora escrementi, un fettore nauseabondo, sporcizia, ecco qua. Questo è l'esterno dell'ufficio postale di Viale Trieste, poste italiane che si è anche adoperato chiudendo questi spazi esterni. Per ora, da Castelduonline è tutto, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.